13 persone sono state poste agli arresti domiciliari nell'ambito di una operazione condotta dai carabinieri fra Molise, Campania e Puglia. È stata smantellata nel Molise una residenza per anziani in cui avvenivano violenze e percosse. Tra i arrestati il titolare che è anche sindaco di un comune molisano ed altre persone. Bagare al Senato in marito all'articolo 18 è Jobs Act. Un gruppo di deputati ha interrotto un ministro mentre stava parlando dell'argomento. Il Presidente del Senato ha esposto il capgruppo di un movimento politico reo della contestazione, quasi vicini allo scontro fisico con un partito di centrosinistra. La fiducia è arrivata nella serata di mercoledì.